Il corso 8 maggio è articolato su due piani e su una superficie di circa mille metri quasi. Sono presenti 12 ambulatori poli-specialistici, oltre ad un'area dedicata alla radiologia, con la mammografia, un mammografo, una residenza magnetica articolare, le fotografie, c'è una parte di fisioterapia, un'area di chirurgia ambulatoriale, quindi è una struttura completa, con un'offerta completa, che verrà integrata nei prossimi mesi, anche con un punto preghieri, che sarà qua alle spalle, aperto dalle 6.30 al mattino, anche la domenica mattina. Fin dall'inizio della progettazione abbiamo posto molta attenzione ai dettagli, che abbiamo posto molto nel valorizzare i singoli particolari. Vedrete spazi ampi, molto luminosi, per garantire, dicete, per questo servizio, attenzionati e dei medicamenti accoglienti all'interno di questa struttura moderna, gestionale. Che a noi è un po' una novità, nel senso che è la prima volta che siamo presenti in un centro commerciale, un centro commerciale che è un luogo di socializzazione, un luogo di benessere, cioè un punto di riferimento quotidiano.